Mi guarda un po' pulirsi il culo perché allora mio nonno non era uno di quei nonni a cui piacciono tanti bambini era un po' come me, se gli facevano un po' cagare i bambini però quando avevo circa 8 anni mi diede la più grande lezione di economia domestica della mia vita mi vide pulirmi il culo con un blocco di cartogenica mi dispiace quasi per loro però poverini mia granita, quando aveva visto me clean my ass after poo con una balla di toilet paper ma mia granita fa il mondo, quindi si cresce in un po' pulirsi e quando si vede, si diceva che è una piazza devi clean your ass with just one strap allora mio nonno ma mi dice oh porco dio, mi traduco pure per il porno allora mio nonno mi ha visto pulirmi il culo con un blocco di cartogenica ma quando mi ha visto, lui ha fatto la guerra ha detto che questo è uno spreco e quindi mi ha insegnato a pulirmi il culo con uno strappo solo perché uno strappo solo one strap poi pulirti il culo 4 o 5 volte e quindi potete pulire il culo con un po' pulito e anche 5 volte se non è... se non è diarrea se non è diarrea, porno te lo dico giusto perché stai mangiando grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Non lo so, lui era un uomo netto, perfetto, farino che confesso. Ciao, nonostante, è stato un grande esempio per me. Non lo so, lui era un uomo netto, 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 Con un solo scacco, quattro morte, disegno di colpire La 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 scacco, quattro morte, disegno di colpire Grazie a tutti. Perché al giorno d'oggi è un casino di fare parte del demonio, perché ormai tutti gli incroci che c'erano ce l'hanno fatti diventare rotatori. Grazie a tutti. Perché al giorno d'oggi è un casino di fare parte del demonio, perché ormai tutti gli incroci che c'erano fatti diventare rotatori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.